Musica Buonasera, io sono Enzo Infantino, un attivista per i diritti umani. Questo oggetto che tengo in mano è un oggetto in legno, costruito da due ragazzi straordinari. Sono due rifugiati di guerra che vengono da Aleppo. In questo momento vivono a Salonicco. Sono degli artigiani, sono stati costretti a fuggire dalla guerra con le loro rispettive famiglie. Io, assieme a tanti altri ragazzi e ragazze della nostra regione, stiamo sostenendo il loro progetto in modo tale che riescono a vivere una vita più dignitosa nelle condizioni in cui si trovano in questo momento a Salonicco. Vi chiedo di acquistare queste chitarre in legno che loro costruiscono appunto a Salonicco per sostenere la solidarietà nei loro confronti. Come potete notare qui ci sono i colori del loro paese, il Kurdistan, e poi ci sono i loro rispettivi nomi. Ecco, io vi chiedo e chiedo soprattutto alle donne e agli uomini di buona volontà di sostenere questo nostro progetto e di rivolgersi al sottoscritto attraverso la mia pagina Facebook Enzo Infantino. Grazie. 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 Grazie.